Benvenuto a Riccardo Bocca, buongiorno! Grazie del benvenuto e un saluto a tutti gli ascoltatori, buona giornata! Buona giornata anche a te! Allora, vorrei intrattenermi con te gli ascoltatori per affrontare un po' questo problema che ha mosso Enrico Mentana, il direttore del Tg della Sette, che ha abbandonato Twitter, nel senso sono stanco e non condivido questo modo di relazionarsi con insulti, con frasi spregiative che isticano spesso alla violenza, insomma, mettendo un po' un freno e mettendo una luce su questo aspetto che comunque esiste ed è evidente nei social network. Tu che ne pensi, Riccardo? Ma io ho reagito con un tweet immediato quando ho saputo che Enrico Mentana aveva, come dire, scelto questa strada. Ho scritto la notizia, tra virgolette, su Twitter, ho scritto Mentana abbandona Twitter, tipico dell'età, problemi con l'uccellino. No, questa è stata la mia reazione, per drammatizzare completamente la situazione. Io credo che, e anzi se mi incapaciterà ne parlerò con Mentana anche, se dovessimo incontrarci, credo che ci sia un grosso errore di fondo ed è non soltanto nella violenza di cui parleremo poi da parte di una parte dei frequentatori della rete in generale, di Twitter pure, ma di chi si affaccia su Twitter. Ora, ci sono due modi specifici per affrontare Twitter. Il primo è strettamente professionale, ovvero utilizzare Twitter per diffondere dei materiali che si producono. Nel caso, per esempio, del mio blog, inserisco su Twitter gli articoli che scrivo, le recensioni degli antenati e dell'Espresso. Invece, per una gran parte di professionisti, anche molto conosciuti come Mentana e come tanti altri, Twitter è diventato un oggetto di curiosità mista tra il professionale e il personale. Anche un divertissement per certi versi e un angolo di confronto che agli over 50 piace tantissimo perché li fa sentire molto moderni. In realtà, in realtà, non lo sono affatto moderni perché confondono quello che è il normale rapporto che si instaura al di fuori di Twitter, nella vita reale, dove è naturale il rispetto verso un'altra persona e ancor più verso una persona che ha una visibilità pubblica, con ciò che succede nella rete e in particolare su Twitter, dove invece le distanze non esistono. Al contrario, nel momento in cui uno non accetta questo e gioca con questo, viene immediatamente colpito da insulti di tutti i tipi. Dopodiché c'è un secondo problema e il secondo problema è quello che a volte, parlo per me stesso, per primo, per non parlare degli altri, uno si convince di essere strepitosamente intelligente quando scrive cose sulla rete e invece un solerte, magari sedicenne, ti spiega in 140 caratteri che forse hai detto una cazzata e questo non è mai piacevole. Quindi credo che tra la violenza ingiustificata e ingiustificabile di chi partecipa a Twitter e magari la necessità di prendere le giuste misure, possono nascere incidenti di questo tipo. Questo penso che sia il quadro complessivo. E poi credo che i social network, chi li frequenta, deve anche avere un atteggiamento un po' meno... Cioè, deve fare un po' la tara e mettere nel conto che chi ci si trova di tutto, quindi va usato un po' di buon senso. Scusami se ti interrompo, c'è un altro aspetto che secondo me l'ha affrontato e non l'ho ancora letto come tema affrontato, è quella del peso che gli insulti stessi hanno a seconda dei luoghi dove vengono rivolti. Esattamente come il bar, una volta, era il posto dove cadevano certe barriere e dove dare del coglione a qualcuno non era un'offesa per cui ci si sfidava a duello, ma magari avveniva durante una partita a biliardo per un tiro sbagliato. Parliamo di 30 anni fa, di 40 anni fa, di mondi ormai quasi completamente scomparsi. Tanto la rete propone un affinto concetto di confidenza che però invece nella realtà si riverbera in un linguaggio e in una serie di insulti che mai avrebbero personalmente, che non hanno la stessa violenza effettiva del confronto. E questo va interpretato. Se poi a una persona dà fastidio essere attaccata in questo modo, allora se ne deve andare. Io ieri sera, ahimè, ho trascorso la mia serata e poi la mia notte a scrivere del programma di Perlusconi che c'è stato ieri sera, questa mattina... Ah ecco, io non l'ho visto e non ho letto il tuo pezzo. Che impressione, io me lo sono registrato, quindi me lo vedo. Ma che impressione ti ha fatto questo speciale? Come ho scritto oggi c'è anche sul sito dell'Espresso, sì, sugli antennati e anche sul sito dell'Espresso che abbiamo messo, il titolo che abbiamo messo sul sito è Berlusconi in tv non c'è niente da ridere. Cioè io ho sottolineato il fatto che in questo caso questo tipo di produzione a cavallo tra la fiction, la SOP, il docu SOP per difendere Silvio Berlusconi alla vigilia di un processo importante come quello di Rubi e dell'udienza che c'è questa mattina, tutto questo potrebbe essere facilmente oggetto di satira. E in parte ne faccio anche nell'articolo che scrivo. Ma freno immediatamente dicendo che tutto questo ha una rilevanza fondamentale e c'è molto poco da ridere perché gran parte del pubblico viene colpito dal profumo di tutto questo. Un pubblico che probabilmente non legge tantissimo, che probabilmente non è iperdocumentato e quindi non va mai sottovalutato un'operazione del genere in cui viene occupato a mano militari un canale di sua proprietà per difendersi in questioni che dovrebbero essere affrontate in tribunale. Io ho anche scritto che secondo me è stato addirittura, è nato un nuovo reato ieri sera perché… in questo… pronto? Sì, sì, ti sento. Pronto? Ti sentiamo perfettamente. Ecco, adesso vi sento. Sì, sì. Parlo di sfruttamento della Costituzione, dal passaggio dal sfruttamento della prostituzione allo sfruttamento della Costituzione. C'è l'abuso della libertà di esprimersi compiuto con due semplici mosse. Scrivo l'occupazione padronale di un canale catodico e il suo utilizzo per difendersi alla vigilia di un'udienza, evitando il contraddittorio totalmente assente all'interno di questa produzione. Certo. Quindi se è facile scherzare, ironizzare su questo tipo di cose, io chiunque approfitti della televisione in questo modo, che sia Berlusconi come chiunque altro, questo lo sottolineo, questo, questa cosa mi preoccupa parecchio e ribadisco, è molto più preoccupante un tipo di dis, tra virgolette, informazione di questo tipo, cioè un'informazione non completa comunque, rispetto a un programma che seguendo tutte le regole che siamo soliti affrontare quando si trattano questi argomenti, magari pende dalla parte decisamente di qualcuno. quello è un genere tradizionale, è il talk show, è l'informazione di un certo tipo che è sempre segnata da un'opinione nel momento in cui tratta temi di questo tipo. Altra cosa è questa forma di nuova docufiction che può confondere molto e anche annoiare parecchio, devo dire, perché io mi sono veramente ammazzato di noio, io di sera, questo lo sottolineo. Comunque rimandiamo ai nostri ascoltatori alla lettura del tuo pezzo sugli antennati sull'espresso.it e il tuo blog che seguiamo costantemente. www.giantennati.it Perfetto, Riccardo grazie Ringrazio moltissimo voi Buona giornata Riccardo Bocca dell'Espresso